Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. È uscito un volume dal titolo Dizionario politico minimo a cura di Antonio Di Siena che mette insieme una breve raccolta di brani di Luciano Campora, una sorta di piccola antologia su argomenti di politica raccolti dalle opere di Luciano Campora. Innanzitutto chi è il curatore Antonio Di Siena? È un saggista che scrive di politica internazionale con un taglio diciamo antiliberista o meglio fortemente di sinistra per essere chiari. Ha curato uno studio sulla vicenda contemporanea della Grecia e sulle sue vicissitudini finanziarie in seno all'Unione Europea. Allora, il volume Dizionario politico minimo raccoglie una serie di interventi di Campora su temi di politica attuale. Si tratta in concreto di 50 capitoli brevi, anche molto brevi, di volume molto agevole, fin troppo veloce talvolta su alcuni temi secondo me e ciascun capitolo è intitolato a un tema specifico. Cito a caso alcuni degli argomenti trattati, sovranità, elezioni, propaganda, dittatura, eccetera. In realtà non si tratta di un volume che aggiunge qualcosa di nuovo al pensiero di Campora ma è un libro che può essere utile leggere perché ne sintetizza la posizione su questioni importanti legate alla politica dei nostri giorni. Mi soffermo solo su alcune voci per dare un'idea di questo dizionario, alcune voci tra quelle che mi hanno colpito di più. La prima voce, che peraltro è proprio la prima nell'ordine perché sono in ordine alfabetico, è antifascismo. Allora, su un tema così dibattuto il volume riporta due chiavi di lettura, due strade per comprendere il fenomeno, proposte entrambe da Campora. La prima strada è una lettura storica del fenomeno dell'antifascismo, che secondo me vale la pena di aver ben presente nei diversi passaggi. Allora, si parte dall'opposizione al fascismo storico, quello di Mussolini, sostenuta fin dal primo momento, fin dal nascere del fascismo, dal Partito Socialista e dal Partito Comunista d'Italia, quello per intenderci nato nel 21 per scissione al congresso di Livorno. Si passa poi lungo tutta la storia dei fatti che l'antifascismo politico dovette affrontare, gli arresti del 23, il delitto Matteotti del 24, le leggi fascistissime del 26 con lo scioglimento dei partiti politici e l'instaurazione piena dal regime fascista. Poi si passa alla fase della lotta partigiana e in seguito, con la fine della guerra, alle vicende repubblicane, con l'egemonia politica raggiunta dalla democrazia cristiana. Democrazia cristiana che era un partito caratterizzato da una dirigenza, nella stragrande maggioranza dei casi, schiettamente antifascista, ma che aveva ereditato un corpo elettorale che poi era lo stesso che in precedenza aveva sostenuto o fiancheggiato o sopportato il fascismo. Parallelamente si ricordano anche le vicende del Partito Comunista, l'altro grande partito di massa dell'Italia repubblicana del dopoguerra, partito comunista che aveva abbandonato la prospettiva rivoluzionaria per scegliere quella della democrazia progressiva e del riformismo e questa svolta soprattutto dopo il ridimensionamento all'interno del partito dell'ala legata a Pietro Secchia, che era stato uno dei due principali capi militari, insieme a Luigi Longo, delle Brigate Garibaldi nel periodo della resistenza. Dunque, il percorso storico dell'antifascismo attraversa così tutta la cosiddetta Prima Repubblica. Ci sono, è vero, gli alti e bassi tragici dei tentati colpi di Stato e soprattutto delle stragi, ma qui il volume raccoglie quello che ha a che vedere con la storia dell'antifascismo, non del fascismo nell'Italia del dopoguerra. Si arriva, dopo alcuni decenni di sostanziale continuità, alla stagione del suicidio, così Canfora lo chiama, della DC e del PCI e alla contestuale scomparsa del partito socialista. E poi alla nascita, che Canfora dice, avvenne, così come ne nascono i funghi dopo la pioggia, di Forza Italia, che era un movimento, non viene chiamato partito, che divenne di massa ereditando il corpo elettorale della democrazia cristiana, ma che dalla DC non ereditò una dirigenza dal profondo orientamento antifascista. Italia. Questa svolta viene individuata, nella ricostruzione che si fa nel libro del pensiero di Canfora, come la soluzione di continuità nella storia della Repubblica italiana negli anni 90. E si arriva così oggi alla situazione in cui abbiamo il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Senato, che è la seconda carica dello Stato, che hanno una provenienza che attinge alla storia del fascismo italiano del dopoguerra. E che fine ha fatto la sinistra, si chiede Canfora, per contrastare questo ribaltamento politico? La risposta è molto poco. Esiste ancora un antifascismo politico? Questo vorrebbe da domandarsi, ma nel libro questa domanda. La seconda parte della voce antifascismo segue una linea che non è una linea della ricostruzione storica, ma è una linea teorica. Qual è l'essenza dell'antifascismo nella Italia Repubblicana? L'essenza dell'antifascismo nell'Italia Repubblicana, dice Canfora, è espressa nel modo più chiaro dall'articolo 3 della Costituzione, ben di più che dal divieto della ricostituzione del partito fascista contenuta nella dodicesima delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che, come ricorda Canfora, in un altro luogo, cosa non riportata in questo volume, è stata una disposizione che fu varata addirittura dopo che il movimento sociale era già stato fondato, e quindi una disposizione non teoricamente, ma storicamente inutile. Che cosa dice l'articolo 3 della Costituzione, che, secondo il pensiero di Canfora, è il nocciolo teorico dell'antifascismo italiano? Dice, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E poi aggiunge, secondo Coma, il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano nei fatti la libertà e l'uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ora c'è da chiedersi, perché mai l'affermazione dei principi di uguaglianza e di libertà? Sanciti così bene dall'articolo 3 della Costituzione, sarebbe l'espressione teorica dell'antifascismo? Questo concetto, peraltro, uno immagina che sia riportato nella voce fascismo di questo libro, invece non c'è. Vabbè, Canfra ha spiegato questo molto bene nel suo ultimo saggio, che è intitolato Il fascismo non è mai morto, dove è andato alla ricerca del nocciolo del fascismo, del nocciolo teorico, ossia di ciò che rende riconoscibile il fascismo in quanto tale. Peraltro c'è già un mio video di recensione su questo, a cui mi permetto di rimandare. E che cos'è che rende il fascismo in quanto tale riconoscibile, secondo Canfra? Per un verso. La contrapposizione, lui dice, alle idee fondanti della rivoluzione francese. Il fascismo si contrappone a libertà, a uguaglianza, a fraternità. Perché? Perché il fascismo ha un'idea della società profondamente gerarica, non solo, ma nel momento stesso in cui, come ogni fascismo ha sempre fatto, dichiara la superiorità e la conseguente chiusura su se stessa della nazione, è intimamente anti-egualitario. Dunque è contrario, come dire, geneticamente, all'idea di egualitarismo proprio della rivoluzione francese. E si tratta, per questa via, diciamo negativa, di una definizione di fascismo molto chiara. Ma c'è anche una definizione non negativa, ma positiva, del fascismo. Il nocciolo essenziale del fascismo si ritrova, dice Canfra, nell'intreccio di nazionalismo e razzismo. Questo, questo intreccio, nazionalismo e razzismo, è il nucleo profondo del fascismo, che riemerge periodicamente nel tempo e nello spazio sotto pseudonimi diversi. Ma anche qui l'affermazione nazionalismo e razzismo è la negazione proprio dell'articolo 3 della Costituzione, che dice Canfra, sarebbe molto importante non venisse abolito. E questo Canfra lo dice riferendosi al clima politico, al vento politico di questo periodo, che ha tra gli altri obiettivi la destrutturazione o la demolizione della Carta Costituzionale, considerata dall'attuale forza di maggioranza come qualcosa di ormai superato. E questo è quello che, con qualche interpolazione, si dice in questo libro sulla voce antifascismo. Un'altra voce che ho trovato utile è stata internazionalismo. Per chiarire, si intende qui l'internazionalismo comunista, di cui si cerca di seguire la storia. Bisogna ricordare che il primo tentativo di esportare la rivoluzione fu quello operato dalla rivoluzione francese, nella guerra contro la prima coalizione, voluta dalla Gironda. Robespierre era contrario a questa strategia che si sarebbe rivelata un mezzo fallimento. C'è la sua famosa frase, i popoli non amano i missionari armati, che viene spesso ripetuta da Campora, perché si adatta bene anche a fatti della storia molto recente. Tutto questo però nel libro non c'è peccato. Si passano nel libro, invece, in rassegna i fatti della storia dell'internazionale socialista e comunista. Questo a me è apparso sicuramente interessante perché aiuta a fare chiarezza. Prima internazionale, quella nata negli anni 60 dell'Ottocento, in seguito all'esperienza rivoluzionaria in Europa del 48-49 e che aveva tra i promotori Marx e Bakunin. La prima internazionale si sciolse dopo il fallimento della Comune di Parigi. La seconda internazionale nacque dopo il fallimento della Comune di Parigi, a metà degli anni Ottanta dell'Ottocento, e terminò allo scoppio della Prima Guerra Mondiale naufragando per la sconfitta del fronte pacifista socialista che non riuscì a opporsi alla guerra. Ci fu poi la terza internazionale, nel periodo tra le due guerre, che sorse su iniziativa sovietica, chiamata anche Comintern, e che aveva lo scopo di favorire la formazione dei partiti comunisti e dunque la rivoluzione comunista in tutta Europa. Non sopravvisse la seconda guerra mondiale perché fu sciolta da Stalin nel 43 come atto rassicurante verso gli alleati. Nel dopoguerra seguì il Cominforma, ma questa è tutta un'altra storia perché riguarda i meccanismi di funzionamento dell'impero sovietico. Che ne è stato dell'internazionalismo socialista nel secondo dopoguerra? Sul fronte sovietico si è sgretolato sia in Europa quanto verso la Cina, dove addirittura si arrivò agli scontri armati sul fiume Ussuri, all'estremo confine orientale dello Stato. Una diversa versione di internazionale socialista fu in un primo momento sostenuta dalla Cina negli anni Sessanta nei rapporti intrattenuti con Indonesia e Indocina, ma gli Stati Uniti provvidero a stroncarla con il massacro dei comunisti in Indonesia. Ora qui il nostro libro cita solo quasi per dovere sempre un episodio molto importante di cui si parla assai poco e che sarebbe stato opportuno approfondire e che Campora invece racconta in altri luoghi della sua opera varia. Si tratta dei fatti del 1965 quando la reazione statunitense provocò la morte di circa un milione di indonesiani iscritti al Partito Comunista. Il Partito Comunista indonesiano al tempo era il terzo partito per numero di iscritti al mondo dopo quello sovietico e dopo quello cinese. Sarebbe stata una buona occasione per parlarne, peccato, non capisco però l'accenno fatto nel libro se poi non si approfondisce. Mi lascio un po' perplesso. E comunque, come mi lascia perpresso anche la frase finale della sezione internazionalismo dove si dice il Fondo Monetario Internazionale è il vero Cominterna. Frase elegante a dirla tutta, ma la propaganda non mi sembra farina del sacco di Campora. Un'altra voce che trovate interessante è democrazia. Sul termine democrazia ci sono interventi molto interessanti di Campora che si ricollegano agli studi di storia antica. Il punto principale riguarda il fatto che il vocablo democrazia è sicuramente greco, ma la democrazia dell'Atene classica, oltre ad aver subito nell'arco della stessa storia dell'Atene antica Un'evoluzione notevole porta con sé il peccato originale della schiavitù. Dunque, si tratta di una situazione storica difficilmente paragonabile all'idea moderna che noi abbiamo di democrazia. Concetto greco, ma con molti distingue. Quello atteniese era un regime di tutt'altro tipo che non democratico come noi lo intendiamo. Questo fraintendimento storico, dice Campora, è più che altro da imputarsi alla propaganda giacobina dell'epoca della rivoluzione francese che volendo esaltare la virtù della Repubblica antica fece storicamente un po' di confusione. La riflessione moderna, la formazione del concetto moderno di democrazia nasce invece con lo sviluppo ottocentesco del movimento socialista che ha in mente la conquista politica di un'equità sostanziale di classe. Questo movimento sarebbe sfociato poi nella novecentesca socialdemocrazia ed è qui che si ritrova il concetto attuale di democrazia che noi abbiamo in mente. Sul moderno sistema democratico ci sono poi diverse distingue interpretazioni, dice il libro, una parte abbastanza interessante, che tirano in balli i cosiddetti sistemi misti, ossia quei sistemi politici in cui gli organi non eletti hanno un peso meno o più rilevante rispetto agli organi eletti a suffraggio universale. Basti pensare in ambito europeo a quanto politicamente conti la Banca Centrale Europea, organo certamente non eletto, e quanto invece conti il Parlamento Europeo, organo eletto a suffraggio. A breve ci saranno le elezioni europee, ma non certo per la composizione della Banca Centrale, che è l'unico organo che veramente conti in Europa. Questa è democrazia? Tutto questo è interessante, anche se non sempre raccontato in modo limpio. Altre voci che ricorrono più frequentemente nell'ultima parte del libro, come schiavitù, scienza, riscaldamento globale, mi sono sembrate diciamo decisamente più marginali rispetto all'idea che mi sono fatto del pensiero di Luciano Camphor. E mi sembrano un po' orientate in modo polemico, più polemico che non storico. E ho pensato che non siano completamente farina del sacco di Luciano Camphor, mi scuso in anticipo nel caso in cui questa mia impressione non corrisponde a realtà. Resta nel suo complesso una lettura interessante, dizionario politico minimo, che sinteticamente offre degli spunti importanti di approfondimento sulla realtà attuale per chi abbia interesse o voglia di affrontare questi temi. Grazie a tutti, alla prossima.